Pierlu, 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 guarda, sono contento di essere tornato a casa, siamo a Firenze, abbiamo fatto questo bellissimo giro con queste grandi serate Pierlu, perché Pierlu, devo dire questa volta, Pierlu veramente, Pierlu, Pierlu, ci siamo divertiti veramente tanto, anzi fammi salutare i miei amici dei locali, allora salutiamo Janet Waltz che è diciamo la responsabile del TBA di Brooklyn, locale molto underground, bellissimo a New York, poi salutiamo Vixen Olia Casei che è appunto la responsabile della parte artistica di questo Tecno Taco Tuesday che tutti i martedì fa questa serata stratosferica a Las Vegas e poi ovviamente anche i nostri amici di San Diego che ci hanno accolto i loro locali e poi ovviamente anche i nostri amici di Los Angeles che ci hanno accolto i loro locali, però Pierlu a settembre noi si torna e quindi sarà una buona occasione per fare ancora veramente dei music never lies, quasi live, quasi live in diretta a New York. Il problema Pierlu qual è? Che alla fine siamo tornati sia a casa, qui come vedi Pierlu si sta bene, si sta rilassati e c'è tempo per concentrarsi sul proprio lavoro, ma in sostanza ha solo da cambiare le valigie perché qui Pierlu si riparte, il 23 di maggio si vola in Costa Rica, si vola in Costa Rica e c'è questa serata micidiale, bocca a bocca si chiama, presso il club Vertigo che è a San Jose, proprio lì in Costa Rica. Ma poi non solo, mi tocca fare anche il foro orario, quindi dalle 5 di mattina, perché alle 4 chiude il vertigo, il tempo di spostarsi in Costa Rica, che non so cosa voglia dire, comunque alle 5, apre il foro orario e quindi facciamo questo foro orario dalle 5 fino a mezzogiorno, come a vecchi tempi Pierlu, il vecchio foro orario, il vero foro orario. Poi tocca andare a Cuba, praticamente Costa Rica, Cuba, se a Cuba, ma a Miami, è giusto, a Miami anche lì abbiamo da fare un paio di cose, però magari te le dico la prossima volta, va bene Pierlu? Allora, oh, music never lies, la musica non mette mai, questo si sa, quindi condividete, 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 like, 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 virale, 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 va bene? E soprattutto, ciao Pierlu!